Celebrata in tutta Italia, anche a Campobasso, Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Questa mattina cerimonia al Comando Provinciale la presenza delle massime autorità istituzionali della Regione. Vigili del Fuoco in divisa, altri in borghese, poi c'erano le famiglie, mogli con bambini, madri e padri commossi e orgogliosi dei propri figli. Un lavoro impegnativo e rischioso, quello del Vigile del Fuoco sempre in prima linea, anche in caso di incidenti o gravi calamità. Alla cerimonia che si è svolta a Campobasso ha partecipato il nuovo comandante Felice Di Pardo, insediatosi lo scorso mese di settembre. La manifestazione è stata anche l'occasione per fare il bilancio dell'anno che sta per chiudersi. Un anno caratterizzato dalla presenza costante sul territorio dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche in numerosi incidenti stradali, mentre sul fronte degli incendi, importante, si è rivelata la prevenzione. Un bilancio dunque positivo nonostante le difficoltà che l'intero paese vive e i tali del governo centrale. La cerimonia è stata caratterizzata anche dalla celebrazione della Santa Messa e dalla consegna delle onorificenze, Vigili del Fuoco che si sono distinti nello svolgimento del loro lavoro. Ma Santa Barbara è anche la protettrice dei minatori e l'ANAS, come da tradizione, ha festeggiato la ricorrenza. Una celebrazione che costituisce un appuntamento di tutti coloro che lavorano al potenziamento della rete stradale ed autostradale.